Ancora una volta nel giro di pochi giorni, Piazza Bra è tornata a riempirsi di centinaia di manifestanti. Oggi è toccato al mondo dello sport, che ha protestato contro il nuovo DPCM e la conseguente chiusura delle scuole di danza, delle palestre e delle piscine. La manifestazione, durante la quale è stata esposta simbolicamente anche una barra nera di cartone con la scritta «Morto per DPCM» rivolta allo sport, è stata organizzata da FIPAV Verona e dalla delegazione provinciale del CONI. Presente per fare un breve discorso anche il sindaco Federico Sbuarina, che ha espresso solidarietà nei confronti del mondo sportivo. L'ho detto io, l'ha detto l'assessore Rando, facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità economiche per andare incontro a chi è in difficoltà anche nel mondo dello sport. Mi farò sentire.